Il professor Bulla, attore, che ha fatto questo grande lavoro di coinvolgere i cuori in questo cammino variato, in questo momento. Io spero che sia solo l'inizio. Questo vuol dire fare chiesa, camminare insieme, coinvolgere tutti, lasciarsi coinvolgere, partecipare, ciascuno con i suoi uomini. Questo dobbiamo chiedere alla Madonna, nell'atto di consacrazione, questa è la chiesa. E credo che sia bello questa chiesa di popolo, cioè di tutti, che si fanno a coinvolgere. E devo dire che sono anche molto conosco che Tore, che ha tutti i suoi impegni, soprattutto in questo periodo, quando finisce l'anno scolastico, i chiesori sono maggiormente operati da scutini, esami, interrogazioni e tutte le burocrazie varie. Ecco, che ha dedicato questo tempo per raccogliere l'invito generale del pastore della chiesa e tradurlo completamente. Ecco, davvero, grazie di cuore, è proprio un bel segno di chiesa francescana, un bel segno di chiesa mariana. Il vero cuore, ecco, è l'inizio e continueremo a ritrovarci, a vedere in che modo di muovere questo. Mentre il pesco saluta io per l'onore, devo dire che io ho fatto parecchie mani, non faccio di più gli amici del Canto Sardo, e per capire che questa organizzazione non è soltanto una... Anzi, vi ringrazio che hanno risposto anche loro a questo invito dell'Arcipesco. e vi ringrazio che salutiamo. Grazie. 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 Grazie.